Una spasmodica attesa, quella relativa all'approvazione della legge di stabilità 2016, resa ancora più tesa dopo gli annunciati e ulteriori tagli alla cosa pubblica. Tra i enti ad accusare di più il colpo ci sono le province, già declassate a secondo livello, che mantengono però competenze che richiedono spese di gestione. Ed ecco allora il loro accorato invito verso i parlamentari abruzzesi. Intanto dopo il decreto antilocali del mese di agosto, noi col governo avevamo inteso intavolare un ragionamento tecnico che consentisse alle province riformate con la del Rio di arrivare a gestire gli anni successivi, quindi al 2015, vale a dire il 2016 e ulteriori. Da lì abbiamo incontrato diverse volte i vari ministri, i vari sottosegretari. Ora siamo al punto che il governo deve recepire le indicazioni che abbiamo richiesto, senza le quali noi non potremo fare il bilancio del 2016 e quindi questo sarebbe l'ultimo anno ufficialmente utile per gestire le risorse impegnate nel bilancio 2015. È un'iniziativa di carattere nazionale, in realtà per quello che riguarda la regione le quattro province sono concordi sul dire che le più grandi necessità e debolezze sono? Intanto noi siamo stati bravissimi in un anno di riforma. Le necessità e debolezze sono assolutamente quella di avere un bilancio sul quale pianificare interventi sulla viabilità e sulle scuole in questo momento. I nostri parlamentari non possono non sapere questo, lo sanno e lo sanno come lo sanno in tanti e pertanto facessero il loro dovere fino in fondo facendo capire a Presidente Renzi che le province riformate avranno sostegni veri con la finanziaria e quindi da lì fare poi il discorso sulla riforma definitiva che sarebbe la gestione delle nuove province sotto forma di area vasta. Ma su questo nessuno ha nulla da obiettare. Grazie. Grazie. Grazie.